Buongiorno a tutti, sono Dionigi Secci, responsabile dell'ufficio biodiversità e fauna dell'agenzia Forestas. L'agenzia Forestas è un'agenzia di recentissima costituzione, nata nel 2016 con la legge 8, la legge regionale 8 e subentra all'ente foreste, l'ente foreste della Sardegna il quale a sua volta subentrava all'azienda foreste edemaniali della regione Sarda. L'azienda foreste edemaniali della regione Sarda è stata praticamente storicamente impegnata nella conservazione del cervo sardo e da ente foreste e adesso ad agenzia praticamente il testimone è stato passato seguendo una serie di progetti che alla fine hanno portato alla conservazione di questa specie e alla realizzazione di questo importantissimo progetto di conservazione. Porto i saluti del amministratore unico dell'agenzia Forestas e del direttore generale dell'agenzia che purtroppo stamattina per impegni già pregressi non hanno potuto presenziare. Io direi di lasciare spazio alle presentazioni e ai lavori che sicuramente saranno molto interessanti e vedo che la partecipazione tra l'altro è molto numerosa, immagino la curiosità sia grande per questo lavoro. Grazie a tutti.